Tavuglia non si ferma, Tavuglia in moto riparte perché sabato 23 ottobre ci sarà una edizione straordinaria dell'evento che anticipa il Gran Premio di Misano e in merito a questa giornata ricca di appuntamenti ha parlato ed è intervenuto ai nostri microfoni il sindaco di Tavuglia Francesca Paolucci. L'abbiamo chiamata Tavuglia in moto edizione straordinaria perché comunque è un'edizione straordinaria il 23 di ottobre a partire dal pomeriggio che è un sabato alle 16 iniziamo chiaramente con l'accoglienza quindi anche chiudendo per sicurezza la strada principale del paese. Ci sarà un primo spettacolo presso lo Yellow Park di tutti i bambini che faranno la pista con le loro biciclettine e i caschi tutto in regola come una sicurezza stradale. Poi ci saranno degli spettacoli di uno stuntman numero uno in Italia di Di Bizzarro, uno spettacolo alle 16.30 e uno alle 18.00. Alle 19.00 avremo un'intervista speciale a Uccio, Alessio Salucci, amico e collaboratore di Valentino Rossi da sempre. Alle 17.00 arriveranno le moto storiche Benelli e faranno la loro parata all'interno del paese per poi proseguire nella serata con una musica speciale ed eccezione con grandi personaggi che hanno accompagnato nella loro carriera i cantanti più importanti del nostro patrimonio italiano. e quindi la serata sarà l'insegna della musica. L'ingresso è sempre libero, chiaramente con il Green Pass e verranno posizionati gli ingressi come abbiamo fatto già per l'edizione precedente, tavuglia in moto, delle persone della protezione civile o altre associazioni di volontariato che controlleranno l'ingresso per il Green Pass, altrimenti è libera, è gratuita. Il sindaco ha inoltre fatto un bilancio sulla precedente edizione di tavuglia in moto che è andata in scena il 16, 17 e 18 di settembre. La prima è andata molto bene, benissimo direi. Sono stati tre giorni intensi, molto partecipati, è andato tutto molto bene, degli spettacoli bellissimi che onestamente anche io non avevo mai visto, in particolare la mototerapia per i bambini con disabilità è stata veramente molto emozionante. Anche di suspense perché a vedere questi ragazzi che salgono su delle moto con persone che fanno delle acrobazie ti verrebbe un po' di ansia. Invece è stato bellissimo vederli sorridere e divertirsi molto. È andata benissimo la festa perché anche quest'anno Valentino il giovedì sera è stato intervistato a distanza, lui a Misano chiaramente, però rispondendo alle domande di Mauro Sanchini dal palco di Tavuglia è stato un momento molto bello, partecipato. Grazie a tutti.